Questo cazzo c'è Tut l'è? Rappo Tu, davanti a diretta, sento un casino, si sente, ragazzi Questo è il cabinello Battle Royale Mi indica un punto di leggeo per il team Dov'è che ci buttiamo? Che c'è sto, Alcatraz? Io non l'ho mai fatto, ragazzi, eh Ma ve lo dico Tu, Jiri, l'hai chiesto Che cos'è, come si fa a mettere Alcatraz? Eh, sì, sì, io seguo Gianni Oh, te C'è altra gente, c'è altra gente, eh S'ha sbagliato l'atterraggio Qua Bellissimo, la pistola Oh, che cazzo, penso fosse la mia luce Ho detto che non esce il nome Ho detto che non esce il nome Esce il nome Almeno Tu sei bacale, è normale che non esco il nome Voglio, non ho nessun'arma io Non c'è niente Voglio, fazionato Mi sono sparato, mi sono sparato In discesa nell'area operativa Eccolo Sono fatto Diocane, siamo sopra di lui, eh Tra l'ho punizione, tra l'ho punizione Tra l'ho punizione Di fronte andiamo sopra io una pistola per gli odio cane stiamo sopra di lui, andiamo a scendere le scalette che io ho cercato? è arrivata la vagine stima, 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 stima stima, stima, stima spainette stima, stima ci si può auto rianimare devo rimanere in vita che se muoio siamo morti tutti 10, 9, 8, 7, 6, 5 stai zitto io mi butto da te cosa faccio in giro? vabbè non ci investe qualcuno è passato di qua mi sta sparando mi sta sparando mi spiace mi spiace oschio ai nemici ma c'è il piole di sotto pensino, Francia Francia c'è Francia c'è abbiamo due armata dove sei tu? chiamano si, sono il mitraglione sotto sono il mitraglione stavano dove state voi stavano dove state voi stavano dove state voi stavano dove state voi andiamo qua in movimento tirano munizioni raga arriva un lancio d'equipaggiamento attivate la chat mi sa che non ci sente la live e mi sa che non ci sente da qui dove c'è mio cugino ha detto attivate la chat perchè mi sa che non ci sente da quanto ho capito io la sento ho detto che la vuole la vuole cosa? la live la cosa è una carriera su salto poi ti chiamò che era in basso che scemo proprio ma guarda la lente via maria il link della live via maria il link della live uapinico in volo ha detto Francia ha detto Federico ha attivato la chat youtube ah no dovevo fare le batti chi l'ha ucciso? io lo sa basta uno ci l'ha pronto dove? sotto dove stavo io dovresti affraggiarci fra questo dalla testa dai che ha ucciso stazione medica sono ultima di invitare che cosa voglio ah sta qua sta qua non l'ho segnato è grateggiato va bene sta sopra sta sopra sto scendendo lo scale no butti è ritornato buttali una bomba vai bravo è usciso vengo da te che sono nelle tutte le armi che coglione sono stato che coglione sono stato mamma mia che coglione oh un altro in giù 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 no ho sbagliato sbagliato è un'ombra ho sbagliato no c'è gente c'è gente veramente hai visto? allora ho visto bene tanto passi per io raga mi fanno le munizioni cazza discorso va recuperata soldato nemico in arrivo l'ho aperto io c'è nessuno siamo nella zona sicura occhio ai nemici facciamo un sciacallo no non vorrei stare qui siamo in una buona posizione possiamorelatedare la casa a fianco o si? no la casa a fianco a fare scelacallo però li devo rimanere a cantanare qui anche se io rimani fullee quattro UUH DIO PORCO aiuto sono morto dove sta dove sta oh no sono sopravvissuto in casa a fianco a quello dove stavamo prima Svristo o destra? Aspetta, lo trovo di qui, dove sta? Mi sta continuando il vitere marco, il tocane! Eh, ecco si è la, bravo, bravo, si Eh, io deciso, non lo so E dove spari? Spari? A me non esce il nome, tante volte Quanti vuoi invitarmi l'arte? Passa l'attore Perché vuoi giocare? Un premolo, si Delle stagioni di acquisto ritoccati Ah, guardate, 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 guardate Poco dove cazzo? Ma non state nell'attacchio? Poco ne mi... Minaccia neutralizzata Occhio dove spari? Cazzo, ma non vengo, c'è Ma sei tu che stai mirando me? Quello, va devo andarci ovunque si devo andarci credite in movimento andiamo 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 stiamo a prenderci il lancio noi stiamo già a lancio siamo qua a chio si è un mur arriva il gas mi fai prima di fare un tasso no non questo fantasma no non va bene anch'io forse dio da un bel franzo dobbiamo andarci in qualche caso per farza comunque sono sacrificato per voi in movimento mi dimenticherei che ce ne sono altri aspetta non posso c'è nessuno c'è 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 te la caverai copri francesco ho preso il pico si mette qua mamma mia francesco qua c'è la munizione siamo in safe precisa siamo in safe perfetta qua dobbiamo resistere qui sempre voi che ci vengono da sopra salvato le storie davanti però soldato nemico in arrivo oh cacchio 43 metri qua 43 metri verso qua si 35 metri oh qua c'è verso alto a sinistra la francesca bombargamento di precisione nemico giù 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 ok fai due posto 44 metri di fronte a lui 42 letri uno c'è no uno c'è tutti i craccati tutti i craccati lo lascio ma delle scuole da fuori stammazione non ce la fai, stavolta c'è copri, non te ne scappare, copri l'entrata eh ma liu mamma e come ci parlo il palacchius copri l'entrata, non te ne scappa, non te ne scappa stavo qua la bussia a uno ce l'abbiamo pure a destra, tutti a destra sono scendendo, sono scendendo, a destra 10 metri da lui, uno qua, l'ho buttato io giù quasi mamma ma che cazzo, non c'è nessuno cazzo stavo scendendo l'ho ucciso 15 metri, l'infrante, l'infrante l'ho ucciso l'ho ucciso quanto è forte sarò qua, sarò qua dai dietro, dai dietro per forza venire da lui, per forza dove sta? sono costretto giù, 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 da qua che cosa? si grazie 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 ragazzi grazie l'ho ucciso tutte e tre alla fine io grazie l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso mamma le vedi le vedi tutte e due l'ho ucciso stupido ma pg una kill hai? hai solo una kill cosa hai ucciso l'ucciso? no vedi sei